...de una macchina ferie, eh? Siamo arrivati! Ma non dovevamo andare al trocadero, noi? Al trocadero? Al trocadero! Eh, al trocadero! Ma che trocadero! Mi è venuta un'idea eclatante ai dodici apostoli! Dodici apostoli! E chi li conosci, dodici apostoli? Eh, la madonna! Venite, venite! Guarda un po' qua che ambientino, eh! Sembra un po' da camionisti. Ma che camionisti! Qua ci viene tutta gente importante, il fiorfiore, la crema, dai! Guardi i paloncini! Speriamo almeno si mangi bene. Speriamo. Non la famo. Oh, mi raccomando, non mangiare niente! Eh, sono tre giorni che non mangio. Sì, e se mangi con cosa paghiamo? Benvenuti, signora, ai dodici apostoli! Buonasera! Buonasera! Sempre bello i dodici apostoli, eh! Questo chi è? San Vito? Perché? Balla! Non scherzare! Accomodate, prego, signori! Ma, per cominciare prenderò un'antipasto... Buona idea! Anche per me! Antipasto 3.000, fatto da cameriere 2.000, l'ho letto fuori. Cameriero o no, io l'antipasto lo voglio mista abbondante. Signorina, ci penso io! Landina! Antipasto a portare per la signorina! Cosa volete di primo? Di primo? Di primo? Ma cosa fate? Con i primi qua. Ma noi mangiamo alla francese! Alla francese! Il primo dato è le maiali! Bravo! Come? Io lo voglio il primo, scusate! E io no, ho una fame! Tu lo vuoi? Io no! Ah, io neppure! Ma come? Dici come? Allora mi porti un ovetto, un ovettino! Ma che uovo? Ma che uovo? Metta uovo! Metta uovo un uovo! Questo te lo fa sbattuto l'uovo! L'uovo cosa fai? Mal di fegato! Ah, mal di fegato! Oh, mal di fegato! Ah, ho capito! Ritardo quando avrete deciso! Vado col pane e vino! Allora? Signore e signori, ecco a voi il menestrello dell'amore! Il sole, il mare e noi farei l'amore! Senti, che bello! Un po' di musica! Sotto le stelle O sotto il sole il mare Oh, morettina, stai con me Ma tutto il sole il sole Bravissimo! Bravo! Grazie! Grazie! Già dato! Già dato! Ma chi? Ieri, abbiamo già dato ieri! Volevo capire dalle facce, siete proprio dei poveri accattoni! Accattoni! Volevo capire dalle tagliatelle! Mmm, che profumino! Deve essere buonissima, mi viene l'acquallina in bocca! No! No! Io stavo pensando la dieta! Stavo pensando anch'io! Ma quale è la dieta? È la dieta... La dieta! Del marinaio! Del marinaio! Il vino e acciughe! Buonissima! Un marinaio che fa la dieta! Un marinaio che fa la dieta! Ma hai sentito? È la dieta del marinaio! La facciamo sempre anche noi! Ma hai sentito? Come non l'ho mai sentito! Metti giù quel pane che poi ci mettono in conto coperto e pane e siamo rovinati! E adesso arrivo gli antifassi favolosi! Ecco qua! Uorà! Un assaggio di prosciutto di montaglio favoloso! Caccia a fila sott'olio e cipolline sott'aceto! Fugli in giro di l'azi! Filacciona! La cittelli! Olive grece! Viva la grecia! Orpaccia di capra! Curatela di palma! Formaggio di capra! Curatela di palma! Fugli in giro di l'azi! E ora! Prontatevi a lui! E' un bacino! Signore! Voi lo sapete voi che prendete? Ho un annipasso polossissimo! Specialità nella capra! Questo prosciutto è guasto! Cosa? Ma questo salame fa schifo papà! Non è possibile! Ma hai visto due accattoni così fettenti come voi? E' un bacino di ruido! Ma dove ci avete portato? No, io adesso capisco l'atmosfera di nervosismo che c'è perché vi siete innamorati di lui! Ma se volete vado via eh! Ma che cosa vi siete messi in testa voi due? Che cosa? Andrea! Ma voi due dormite un po' da piedi eh! Sognoncini! Ma che credevate voi due che venivamo a letto con voi senza avere il conto dell'albergo pagato? E' in questo schifo di te? E' con questa schifezza di scena! E' stato lui! Un strumento! E' efficiente! Ma non fanno! Ma vada! Vittoria! La mia vita! Brava!